BASSA A SINISTRA Signori, abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo! Rispetto ai suoi amici di sempre, Harry sembrava avere tutto. Era un giovane tenente dell'esercito più potente del mondo. Legato ad una bellissima donna. Ma in un momento di paura... Maledetto codardo! Signore, ho deciso di lasciare l'esercito. Ne parleremo dopo che ne avrai discusso con tuo padre. Non è lui a decidere, signore. Aveva perso tutto. Quello che gli rimaneva erano quattro piume di vergogna. Che cos'è? Un insulto. I miei amici mi danno del codardo. Non mi interessa la gente. La sola cosa a cui tengo, Simon. Allora tu sei un codardo. Adesso, l'unica alternativa è assumere un'altra identità. Sai parlare arabo? Che cosa? Dovrei farlo quando somiglierai a un arabo. Viaggiare attraverso i continenti. Affrontare pericoli a cui non può sfuggire. Perché dici che devi seguirli? Per aiutare, se posso. E ritrovare l'uomo che avrebbe dovuto essere. La paura rimane sempre. Grazie. 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 Grazie a tutti.